Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio di The Sims 4. Allora, siamo con Camilla e Jacopo e ci siamo trasferiti a Strangerville. Come vi preannunciavo nell'ultimo episodio in cui siamo stati con loro, siccome Jacopo ha cominciato ad indagare sul mistero di Strangerville, la cosa più opportuna da fare era quella di trasferirsi. Quindi li ho trasferiti nell'otto che si chiama Angolo del Carpofago, ma l'ho ristrutturato, l'ho sistemato un po' velocemente, non ho fatto speed build, però se vi piace l'otto me lo fate sapere per favore nei commenti e io ve lo condivido in galleria. Allora l'otto inizialmente aveva solo il primo piano, io ho dovuto aggiungere un secondo e ora vi spiego perché. Ora vi mostro la casa e dopo seguirò il consiglio che mi avete dato in parecchi, ovvero quello di mettere a Jacopo l'aspirazione quella di Strangerville, in modo che sia più facile capire come risolvere il mistero, essendoci delle spiegazioni a riguardo. Quindi dopo lo cambiamo e lo sistemiamo. Allora, la casa esternamente è così, ho tenuto lo stesso stile che aveva prima, lo stesso colore, ho cambiato gli infissi e basta. Sì, i tetti, ho dovuto rifare i tetti, vabbè, però. Allora, è una casetta piccolina, primo piano, anzi piano terra. Voilà, ve la mostro dall'alto. Allora, qui c'è l'ingresso. Semplicissimo, ho preferito una porta grande perché mi piaceva. Questa stanza qui, come abbiamo visto, è la stanza da letto. Allora, accendiamo tutte le luci. Al momento c'è solo Jacopo perché sapete che non dormono ancora insieme perché si conoscono, si piacciono, ma al momento non ancora, era più stanco lui poi. Allora, qua è la porta, qui c'è il letto, i comodini, specchio dei quadretti e l'armadio. È un po' piccola come stanza, più o meno ho dovuto escogitare questo stratagemma. Poi qui ho messo le scale che ovviamente prima non c'erano e qua sotto ci ho messo l'espositore per le medaglie che non trovo più. Dove cavolo l'abbiamo messo? Nella casa vecchia non c'erano. Non lo so se le sarà mangiate. Comunque qui c'è il bagno, da qui si entra, da qua. Doccia, lavandino, lavatrice, asciugatrice che mi sono portata via dall'altra casa. Water e cesto della roba sporca. Qui invece c'è la zona giorno, qui le stanze erano divise, qua c'era un muro, qui c'era la cucina e qui c'era il soggiorno. Io invece le ho unite perché mi piaceva di più. Allora qui ho fatto la cucina, molto semplice, con colori chiari. Che fa l'angolo qui. Qui ho messo un tavolino piccolino per mangiare, tanto loro sono in due al momento, quindi al momento va benissimo così. Un mobile decorativo e qui ho messo invece il soggiorno, con una piccola libreria alla televisione, Playstation e Alexa. Ho paura che la mia di Alexa mi risponda ogni volta che la nomino, che è qua dietro. Questa qua risponde quando vuole lei. Comunque ho dovuto aggiungere una scala per andare al piano di sopra, perché dove mettevo la postazione per fare i video di lei, il computer e gli attrezzi per allenarsi di lui. Quindi ho creato questo piano sopra, che al momento è così libero, dove appunto ho portato via la scrivania che c'era dall'altra parte, è la stessa identica. Ho portato via anche questo macchinario e questo, e ho portato via la postazione per fare i video. Me li sono messi nell'inventario e ci siamo trasferiti, in modo che almeno alcuni soldi potevo risparmiarmeli, ma più che soldi, potevo risparmiarmi la fatica di dover cercare la roba. Poi quel piano di sopra si fa presto eventualmente a sistemare per altre stanze, un bagno in più, un'altra stanza da letto, queste radunarle da un'altra parte, insomma. Al momento è così, visto che sono solo loro due. Fatemi sapere se vi piace. Io ho cominciato a registrare adesso che sono le quattro e mezza, perché mi è stato detto che non appena ci si trasferisce, o più o meno subito appena ci si trasferisce a StrangerVille, succede qualcosa. Io onestamente ho paura di questo, molta paura, ma nel frattempo andiamo a cercare quella di StrangerVille. Non è qui? Convinta fosse qui. Forse conoscenza, no. Va bene, facciamole tutte. No, no. Luogo. Eccolo qua, si dai, adesso è luogo. Mistero di StrangerVille, eccolo qua. StrangerVille nasconde uno scuro segreto, e questo sim vuole scoprire perché gli abitanti della cittadina si stanno comportando in modo un po' strano. Tratto premio, eroe di StrangerVille. L'eroe di StrangerVille riceverà lettere di ammiratori e potrà raccontare come ha sconfitto la fonte dell'infezione. Quindi abbiamo già capito che è un'infezione. Allora, parla di StrangerVille con 5 sim. Compra un souvenir al negozio di souvenir. Esamina la porta sigillata al laboratorio segreto. Torneremo al laboratorio. Raccogli 15 prove. Compila un dossier segreto su StrangerVille. Apri la porta sigillata nel laboratorio segreto. Poi, raccogli 15 ammassi di spore. Assembla la tuta per i materiali pericolosi. Attraversa il laboratorio segreto fino al punto più remoto. Vaccina 3 sim. Recruta 3 sim che ti aiutino a fermare la fonte di infezione. Sconfiggi la fonte dell'infezione. Wow! Ecco qua. Quindi abbiamo già esaminato la porta sigillata al laboratorio. Lui se lo ricorda. Bravissimo. Quindi direi che siamo... Ci siamo? Cioè nel senso, adesso appena fa giorno cominciamo. Abbiamo anche il venditore, il cospirazionista, come si chiamava? Il tizio che siamo andati l'altra volta qui. Raggiungibile anche senza dover fare voli pindarici di nessun tipo. E quindi compreremo anche i souvenir. Qua abbiamo il parcheggio delle roulotte. C'era anche questa abitazione libera, però praticamente è un buco. Ho preferito prendere questa perché è espandibile. Qua dietro non ho toccato niente. Era già così. Il giardino al momento non ci ha fatto molto caso. E questi colori tutti sull'arancio. Un po' come l'altra casa, no? Allora, questo spazio qua sopra lo useremo anche se ci serve per crearci tipo il nostro laboratorio per indagare. Non so, ho visto delle cose nella modalità costruisci che onestamente mi incuriosiscono. Ma io ho il terrore di questa cittadina, raga, vi giuro, ho paura. Questa cosa è? Una pianta? Pianta bizzarra. Questa pianta bizzarra emette un bagliore insolito. Come se fosse controllata da un'altra entità. Sembra, tra l'altro, che qualcosa stia crescendo al suo interno. Ho paura. Ma, raga, io mi avete messo terrore. Io su ste robe no. Cioè, non guardo neanche gli horror, alcuni tipi di horror, perché dopo me li sogno di notte. Quindi, io ho paura che vengano infettati. Da quanto mi avete detto? Da quanto mi avete detto, se qualcuno entra e ci infetta la roba in frigo, tipo gli avanzi, può essere? Adesso ho il terrore, non metto più niente in frigo, raga, cioè. Ah, è Natale, noi non abbiamo niente. Raga, sono un disastro io per le festività. Ho tanto voluto le festività adesso. Vabbè, Natale sta nello spirito, però ho messo la scatola delle decorazioni. Quindi, le decorazioni le abbiamo. Poi non saprei neanche dove mettermi l'albero. In giardino si poteva mettere. Allora, gli diamo un regalo? Non so neanche cosa abbiamo nell'inventario. Una parte di aggiornamento. Gli diamo una parte di aggiornamento. Prima di metterci ad indagare sulla cittadina, acquista regali. Vediamo se c'è qualcosa che può fare al caso nostro. Libri. Cazzo, me ne faccio dei libri. Cosa me ne faccio dei libri? Cosa gli regalo? La ripulsa di Atlante. 50 sfumature delle mie finestre. Maiale di Charlotte, solo per il titolo. Dai, maiale di Charlotte. E lui ha qualcosa per lei? Dai. Giardinaggio? Che cacchio le regaliamo? Non coltiviamo neanche. Dai, noi le regaliamo una rosa. Per essere delle persone dolci e romantiche. Allora, andiamo a dare il regalo maiale di Charlotte. Per bebè poi. Eh, vedi. Per un futuro bebè. Per un futuro nostro figlio. Tu gli leggerai questo libro. Previdente. Camilla mette già le mani avanti. Voglio figliare con te. Ah, possiamo anche darle le prove come regali. No, no. Le prove sono sacre. Diamole anche un bacetto, no? Sotto il vischio, il mischio, il minchio. Come si chiama? Ce neanche. Flirtiamo allora. Adesso aspettiamo che magari arrivino alle 8-9 del mattino. Ok? Farci fide gli altri. Almeno che venga un orario decente. Vabbè, questa è i suoi momenti di pazzia. Lo sappiamo. È folle. Cosa potete aspettarvi da una così? Zerf! Shilu Piniwe Baima. Che poi? Mi avete anche detto che con la presentazione militare... Oh, oh, oh! Militare. Ah, mi stavo chiedendo cosa stava succedendo. Con la presentazione militare la gente è più propensa a dirci le cose. Soprattutto gli altri militari, no? Mi sembra che mi abbiate detto così. Adesso non vorrei dire una caccata grande come una casa. Ma adesso... Volevo darle un bacetto. Oh! Primo bacio. Sarà il 75esimo. Ma è bello come se fosse il primo. Perché sti due... Baccia Camilla, ora. Anche fra i desideri. Allora, Jacopino Panella. Vieni a far la BP. E cominciamo ad andare... Vedete, la gente che cammina strana. E poi, nel momento in cui io risolvo il mistero in questa partita, riesco a curare dall'infezione e ce la faccio. Cosa succede? Nessuno è più malato e Stringerville torna a essere una cittadina normale? Oppure no? Parlo in questa partita, eh? Dai, compriamo il suo souvenir. Chiaro che nelle altre partite il mistero c'è ancora. Allora, cosa ci compriamo? Ci compriamo una cimice? C'è? Ci compriamo una cimice, dai. Ah, nessuna... Ok. Parliamo di Stringerville, visto che è anche una delle cose che dobbiamo fare. Noi adesso cominciamo con le solite foto. Che non si sa mai cosa decidiamo di mettere come copertina. Meglio sempre essere previdenti. Aspettate, mi avete giustamente suggerito che per togliere il Blue Bomb basta semplicemente selezionare un altro sim. Direi che è un'idea geniale, come in questo caso, che abbiamo più sim da poter selezionare. Nel caso in cui sim è unico, ce l'abbiamo un po' in fiocco. Allora, lui comunque ci diceva che ha provato a parlare... no, ha convinto con gli scienziati a mostrargli qualche prova dell'operazione segreta qui a Stringerville. Allora, qui abbiamo dei militari, andiamo a presentarci con la presentazione militare, e abbiamo anche degli scienziati. Intanto nessuno ci dirà nulla, perché sono tutti rotti in dubulo. Allora, parla di Stringerville. Queste prove io come le raccolgo? Il dossier, fare sto dossier. Puoi ottenere... Per accedere allo scantinato del laboratorio segreto si raccoglie, però è sufficiente degli strani, avvenimenti nella cittadina. Ma perché hai tu la rosa? Non gliel'hai data a lei? Che cazzo l'abbiamo dato noi, allora? No, dai, non gliel'abbiamo neanche data? Vabbè, dopo gliela diamo. Vabbè, lei non ci ha detto niente di nuovo. Ma io non ho capito ste prove come si raccolgono. Cioè, devo tornare al laboratorio? Era frugando... per di là? Ah. I complottisti di queste parti credono che l'esercito stia cercando di insabbiare qualcosa. E se avessero ragione questi complottisti? Una complottista. Una complottista. Con cui abbiamo già parlato, perché la conosciamo. Magari ha voglia di dirci qualcosa di più. Ho ricevuto una prova sul mistero di Stringerville da un ufficiale dell'esercito con cui ho stretto amicizia. Un'altra tipa dell'esercito. Così facciamo anche la quinta persona e magari nella prossima ci dicono qualcosa in più. Presentazione militare, dai. Cos'è, impossibile parlare con lei? Questo possiamo anche chiudere. Salve, sono un collega, sono un novellino, sono ancora all'inizio, ma prima o poi la comanderò. Chiediamo qualcosa a lei. Ho saputo che qualcuno ha perlustrato il laboratorio segreto. Finché questo sim non otterrà una chiave elettronica per i piani inferiori, la situazione resterà sotto controllo. E abbiamo completato il primo punto. Dobbiamo raccogliere 15 prove, eccole qua. Le prove si possono trovare in tutta Stringerville. Cerca nelle scatole tra i documenti al laboratorio segreto. Cerca negli archivi di Stringerville in biblioteca. Interroga i sim in giro per Stringerville. Compra un dispositivo di intercettazione per intercettare le conversazioni di scienziati membri dell'esercito. Compila il dossier e aprire la porta. Credo sia quello che vi dicevo. Modalità compra. Vado a dare un'occhiata se c'è quello che dico io. Allora, eccolo qua, sistema di intercettazione. Questo è quello con la sedia integrata. Possiamo acquistare cimici. E basta. Piazza una... Ah, dobbiamo piazzare una cimice per intercettare le conversazioni. Allora, su di lei, secondo me, potrebbe essere una buona cosa. Piazza una cimice. Membro dell'esercito. L'esercito pare stia complottando qualcosa. Maria Gentile non ha fatto caso al piazzamento della civice. Usa il dispositivo di intercettazione per vedere se Maria Gentile spiffera qualche informazione importante. Questa va in giro adesso con queste... Queste icone. Allora, compriamo qualche altra cimice. Eccola qua, intercetta le conversazioni e potete scegliere il sim. Compriamone altre cinque, tipo. Piazziamole un po' in giro. Tipo qua sta arrivando un altro tipo dell'esercito. Ma non so neanche se piazzarle casualmente o non casualmente. Cioè, con che... Perché tutti vestiti da bobo Natale? Ho capito che è Natale. Non so se piazzarle casualmente o se ci sia una sorta di criterio, no? Neanche lui si è accorto. Non ci ha fatto caso. Scienziato, 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 scienziato. Io piazzo cimici dappertutto. Allora, lui è in possesso di alcune prove di quel che è accaduto, ma non può parlarne. Neanche lui ci ha fatto caso. Si è al caso di piantarla anche su un altro scienziato. Avere due o tre militari, due o tre scienziati. Sto unito potrebbe valerne la pena. Proviamo, raga. Sto andando molto casualmente perché proprio non ho la più palida idea di cosa fare. Bene, nessuno ci fa caso o tutti ebeti. O non lo so. Cos'è che doveva succedere, raga? Che non ho sentito nulla. Allora, proviamo a intercettare le conversazioni di lei. Sono le ultime parole famose. Ora succederà sicuramente qualcosa. Andiamo avanti in fretta. Nessuno ne conosce la provenienza. Neppure i cervelloni riescono a capirci qualcosa. Jacopo ha ricevuto una prova su StrangerVille. Registrazione audio segretissima. Proviamo con uno degli scienziati. Bene, siamo a dieci prove su quindici. Io mi occupo di botanica. Non mi intendo di rocce spaziali. Abbiamo ricevuto un altro audio. Prima di dimenticarmi, diamole sta rosa. Ma io ero convinta gliel'avessimo data, mi ricordo. Però se ce l'ha ancora lui. Stasera magari invitiamo invitiamo persone. intercettiamo anche gli ultimi due già che ci siamo. Ma cos'è? Li intercetti una volta e poi basta? Ogni volta io devo piazzare mille cimici. Fate mega pin. Ah, sì. Non metterò mai più piede nel laboratorio. Tanto vale che bruci la mia chiave elettronica. Non hai capito. Allora, no. Ah, forse perché lui non ci ha detto niente. Allora, acquistiamo altre cimici per averle sempre in saccoccia. Nessuno ne conosce la provenienza. Ah, vabbè. Eh, sì. Sì, li potete ascoltare una volta sola. Va bene. Allora, per adesso direi anche basta. Veniamo a cucinare un pasto grandioso. Facciamo la cena a base di tacchino. Così invitiamo... No, sta andando lui. Che palle. Dover rifare le robe mille volte però. Allora. Cena a base di tacchino, abbiamo detto. Cambio stazione, festival invernale. E facciamo anche il bucato, già che ci siamo. Prepariamo la tavola. Prepariamo la tavola. Parecchia la tavola, coperta da festa a Bordeaux, visto che è Natale. E... In vita nell'otto attuale, chiamiamo Federica, Grace, che carina ha il cappello, Beatrice, Francesco e Mattia, ovviamente. Gli altri non ci interessa. E anche con lei invita nell'otto attuale Giordana. Perché Giacomo non può? Vabbè, lei manco si ricorda dell'esistenza di Giacomo. Mi sembra ovvio. Cioè, hanno vissuto insieme, ok? Hanno vissuto insieme. Come con... Come con lui, uguale. Tu comunque potresti anche cambiarti però. Eh. Madonna, l'è lunga? Questa me lo mette via? Perché me lo metti via? Scadente. Sabota il cibo. Per favore. Mangiate lo stesso. Ma no, ma lui è già andato a letto? Cos'è sta cosa? Oh. Benvenuti tutti. Poi faccia cagare, quello è un altro discorso. Goditi la compagnia. Babbo inverno! Mi dà un regalo. Niente, devo presentarmi. Mi presenterò con la presentazione militare. Dammi il regalo. Chiedi della carri... Chiedi della carriera! Voglio vedere che carriera ti dice. Voglio vedere che carriera ti dice. Ah, chiedi un regalo. Era nella pagina prima. L'ho visto all'ultimo Zegamba. Chiedi un dono. E Babbo inverno presso il remoto nord. Bellissimo. La macchina del caffè forza mela. E a lei cosa hai dato? Una merda? Schifezza? Non c'era letteralmente nulla. L'abbandono. A parte tristezze e bugie. Cioè, vabbè, solo a Camilla poteva succedere. Mamma mia. E gli altri dove sono? Saranno al computer... No, sono andati via. Ah, vabbè. Vuol dire che abbiamo festeggiato il Natale solo con nostra madre e nostro cugino. Che lei, avete visto, è ancora... È ancora tutta... Sì, vestita, cosa dico. È ancora tutta abbronzata. Niente, vabbè. Vanno via. Sembra giusto. È tardissimo. Allora, ripuliscimi tutto tu, per favore. E butta via sta schifezza. È che purtroppo era tardi. Quindi anche preparare qualcos'altro... Cosa. Che mangiavamo a mezzanotte. Almeno qualcosa siamo riusciti a mangiarlo. Bene o male. E vieni pure a dormire. Ah, ma non dormono... Ma non capisco se, tipo, è la pianta che intralcia. Proviamo... Metterla nell'inventario. Perché adesso la loro relazione... Eh sì, era la pianta che intralciava. Ecco. Pare ovvio. Festival ha avuto successo. Molto bene. Vabbè, ci metterò qualcos'altro. Sto rumore sono i sonagli qua fuori, eh. Forse è meglio che cucini tu la colazione. Allora, qui non siamo messi male. Ci mancano due prove per poter compilare il dossier. E io quasi quasi proverei a tornare al laboratorio. A vedere se c'è qualcos'altro. Non so. Potemi dare un'occhiata. Cerca... Ah no, anche negli archivi di StrangerVille. Allora, lavoriamo da casa. Così. Esercitati a marciare. Vabbè. Abbiamo solo sta roba da fare. Allora. Ma tu ci stai proprio bene a StrangerVille, comunque, matta come sei, eh. Vabbè. Allora, tu vai a registrarmi un video. Anche perché è un po' che non pubblichi niente. Non vorrei mai. Qua ha la fama. Siamo lontani in chilometro. Però, beh. Attenzione, viaggi, videoblog felice. Noi registriamo un videoblog su di giri. Sta ballando. Mi chiedevo cosa stesse facendo, infatti. Ma questa bisogna metterla via. Quindi cliccando su di lui marcia intorno. Bello. Questo è l'incarico della giornata. Penso. Sei rimasto a casa per far sta roba. Ah, però, così ci permette di andare in giro per la città. O magari trovare qualcosa. Sti fumi tossici. Aspettate che intanto le faccio montare il video. Le dico già di fare tutto. Così per un po' siamo a posto. Se funziona. No, volevo parlare con lui. Piazza è una cimice. C'è anche che un pazzo possa dirmi qualcosa? Vale la pena provare. Grazie. A mai rivederci. Ma qua? Ah, dobbiamo, dobbiamo passare a un livello. C'è il livello di marcia. Il livello abbiamo forse forma fisica. Boh. Allora, intanto, vieni a casa a farti la doccia. Intanto lei... Bah, mi ha invertito tutto. Ha caricato il video prima di montarlo. Lo sta montando adesso. Cioè, ma che cacchio? Vabbè. È importante. Non mi ci fisso neanche su ste robe. Ma alla fine fa un po' come Instagram. Carica le storie quando vuole lui. La stessa cosa lei. Monta in ordine sparso, tanto. Allora, andiamo. Sì, viaggia. È da soli, perché tanto Camilla non ci serve. Nel senso. Proviamo ad andare alla biblioteca per guardare gli archivi. Casomai veniamo al laboratorio. Vediamo un po'. Allora, noi siamo qua, comunque. Nel lotto, diciamo, non disponibile. Centro turistico biblioteca, sì. Andiamo. Allora, ci siamo. Cercame gli archivi. Eccolo qua. C'è proprio l'interazione. Comunque, questo cappellino lo voglio anch'io nella vita, nella vita vera. Avete mai sentito quegli eventi che si chiamano tipo random parties? Sono delle feste dove ti puoi vestire proprio a caso, quindi anche in maschera, volendo. Ecco, voglio, voglio partecipare. Volantino promozionale. Scarichi intasati. Chiama gli idraulici infiltrati per un sopralluogo gratuito. Siamo disponibili a tutte le ore, anche quando non sei in casa. I nostri furgoni all'avanguardia si avvalgono delle più moderne tecnologie idrauliche capaci di collegamenti satellitari. E quindi io cos'ho appena scoperto? Che l'idraulico può venire a casa mia anche quando io non ci sono? Eh, bello. Mai avrei pensato, mai avrei creduto. Sì. Niente. Una comp... Richiedi una chiave elettronica, no? Perché non ne ho 15. Quindi comunque mi direbbe di no. Però, però, però ha una complottista, posso provare a metterle na... na... na jimmy je. Io je provo. No, l'abbiamo già apprezzata. Va bene. Allora, andiamo al laboratorio, visto che qua non ci darò solo volantini promozionali di idraulici. Che a quanto pare si infilano nella fossa nera anche con la testa, quindi proviamo a cambiare meta. Magari abbiamo più fortuna. e andiamo al laboratorio. Eccoci in laboratorio. Avete sentito anche voi quel rumore? Dobbiamo imparare ad hackerare. Però, vedete, possiamo cercare prove. Che l'altra volta avevamo cercato dappertutto. Evidentemente la gente ci viene a lavorare. E quindi ogni volta... Ok, abbiamo quindici prove. Compiliamo il dossier segreto. Benissimo. Ora, questo dossier segreto si può usare per ottenere una chiave elettronica per il laboratorio segreto. Consulta l'inventario segreto del proprietario del negozio di souvenir, oppure chiede agli scienziati o i membri dell'esercito in giro per la cittadina. Allora, torniamo a casa, che abbiamo il banchetto dietro casa, e andiamo a dargli il dossier. Vediamo se ci dà la chiave. Ok, ci siamo. Inventario segreto. Dobbiamo richiedere... Vendi tutte le prove. Richiede prove su StrangerVille. Prova a cercare in giro per vedere cosa riesce a portare alla luce. Oh, il dossier! Oh, il dossier! Ok. Torna dopo aver trovato le strane scuole. La porta del laboratorio richiede una chiave elettronica. Parla con la gente in giro per la cittadina per vedere se solo è possibile procurarsene una. Qui è possibile procurarsene una. È un tipo diverso rispetto a prima. No, dove vai? E tu dove vai? Ecco, ecco il tipo che mi entra in casa, giustamente. Vabbè, però è venuto qua intanto. Gli abbiamo messo il localizzatore? Arinati a combattere. No, raga, ma abbiamo il dossier! Ah, questa me la dovete spiegare. I membri dell'esercito e gli scienziati. Allora dobbiamo cercare qualcuno di loro. Non ce la vendeva anche lui? Lo sono sognata per tutto questo tempo. Allora. Invitiamo nel lotto attuale lei. E lei? Sì, membro dell'esercito. Vi chiedi una chiave elettronica. La gente di Stringerville non svelerà informazioni segretissime agli sconosciuti. Quindi dobbiamo farcela amica. E dopo possiamo chiederle la chiave. No, complimentati per l'abito no, perché flirtiamo. Spettegola. Effettivamente non la conosciamo proprio. Cosa sono questi versi? Io ho paura di questa cittadina, raga. Adesso io chiedo alla ragazza mi sembrava fosse una ragazza che mi ha detto appena ti trasferisci succede qualcosa di strano. Cosa doveva succedere? Ma ben che sono qua da due giorni ma devo aver paura? Andiamo a imitare le sirene. No, perché qua io non voglio fare un infarto tipo un mostro che mi esce da dietro io urlo come una bambina faccio un infarto e muoio qui. Sono giovane per morire ma non ho più l'età per certe cose. Comunque allora che palle bucchielli della carriera potremmo farle riconoscerla piazzamole di nuovo nel cimice difficile fare amicizia con questa gente non è come quella di Sulani che praticamente l'amicizia te la tira dietro eccola qua eccola qua eccola qua le chiedi una chiave elettronica sì chiediamogliela ho il dossier ho il dossier ho tutto quello che vuoi eccola qui eccola qui che cosa loschissima sembriamo tipo degli spacciatori di droga senti non dovrei proprio farlo ma mi dai l'impressione di poter contribuire a risolvere questa terribile situazione prendi questa chiave elettronica ti permetterà di aprire tutte le porte del laboratorio segreto cerca solo di fare attenzione nessuno ci ha più messo piede dopo che abbiamo sigillato le porte A I U e io con questa ansia da prestazione vi lascio qua per questo episodio la prossima volta andiamo al laboratorio la prossima volta che siamo con loro lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi grazie a tutti